Pallene che alti in aumento, 30 bolle a pallene, porca madonna, pure le bicchiarie le abbiamo da ordinar, chi si ordene una cosa di stoff, capite che i rappresentanti le mandano tramite il corriere, la geodis, il modem della casa, Amazon, la scheda telefonica, la madonna addolorata di grina, signore, su shop television si è ordinato un rosario elettronico, per dire un rosario elettronico, signore, mannaggia la madonna, ma perché la catenella è nelle tre, della regalina catenella, basta che non mi rompe lo cazzo, porca Dio, ecco il rosario, porca Dio.